Il 2 febbraio scorso non si fermò all'Alt della Polizia, ad un posto di blocco al quartiere San Paolo di Bari e per tentare la fuga esplose alcuni colpi di pistola contro gli agenti. Istanti drammatici che si consumarono all'ora di pranzo, di domenica, mentre molta gente rientrava a casa, soprattutto famiglie. E solo per un caso nessuno rimase ferito. L'uomo riuscì a scappare, ma gli agenti della squadra mobile riuscirono a riconoscerlo. Oggi lo hanno arrestato. L'uomo insieme alla compagna si era barricato in casa. Reazione che non ha intimorito gli agenti, già pronti a sfondare l'ingresso. Si tratta di Cosimo Damiano Fradosio, di 36 anni. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio, resistenza pubblico ufficiale, detenzione, porto di arma comune da sparo e guida senza patente. È stato catturato in un'abitazione nel quartiere San Girolamo insieme alla compagna, la quale è stata denunciata per resistenza pubblico ufficiale. Dopo la cattura gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accadde quella domenica. Fradosio era a bordo di una Honda Hornet, stava percorrendo Viale delle Regioni, quando una pattuglia della polizia, incrociando il suo sguardo, decise di fermarlo. A quel punto Fradosio decise di accelerare con la moto, tentando di far perdere le tracce. Gli agenti iniziarono ad inseguirlo, ma dopo pochi metri Fradosio scivolò e cadde con la moto. Fu in quel momento che aprì il fuoco, probabilmente perché temeva di essere riconosciuto, visto che guidava senza casco. In tutta fretta, dopo aver esploso alcuni colpi, riuscì a fuggire a piedi. In un paio di settimane i poliziotti lo hanno localizzato e arrestato. In casa è stata trovata anche una pistola giocattolo, modificata calibro 6,35 e completa di munizionamento.